Controllate l'equipaggiamento, gli aerei si stanno preparando allo schieramento Ma quanto è lento sto bruno, che ti hanno fatto? Va bene, non l'ho visto La prima arma è? Madonna Eeeh, no, non è vero, non è così lento Va bene, rispetto al mio no No C'è 100 ulti Minchia, due coltishotta l'ho davanti a testa Fine del riscaldamento, si aprono le danze Per quello puoi farlo diventare un cecchino Cioè puoi fare il set up, non puoi farlo diventare un cecchino Con il monoblocco supremo Mecca Vuoi andare qua? Bravo Oh yes Mi devo passare qua eh Va bene Va bene, non ci hanno combattuto Possiamo atterrare qui Possiamo Invece è morto di gente Io ero l'ultimo che si è buttato Sì, Andrew c'è gente Sì Che va boh Ma smettere di non fare il ca... Ma che cazzo... Mi hanno sparato... Quelli in aria Soldato nemico in arrivo Ma possiamo un po' lontane eh Vaffanculo 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 vaffanculo... Cioè ero proprio semplici, ero fuciliati con due palla Fatto un altro non ho ammazzato Compagno inviato nel KULAG Combatterà per tornare in azione O abiti e metto in volo Vado E poi 400 danni perché non sono morti? Ok, devi fare 500 Beh, ci hanno comprato tutti i fili Mi ha incastrato il bus Non ho capito perché Porca merda oh Ora sei nel KULAG Lotta per tornare in azione Scontro il corso Preparati a combattere Sei il prossimo Mi hanno lasciato un fumogero a me Il tipo del KULAG, ok Che sono negli spettatori Se vinci questo scontro torni in prima linea Se perdi è finita Tocca a te soldato Occupati di quello stronzo Che culo! Vabbè sto avendo un culo al KULAG oggi che non mi dico Ok tipo Che era dietro il muro l'ho colpito L'ho sparato L'ho sparato per sicurezza Ed è dietro il muro Ok Ed è morto Va bene Sì 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 UAB nemico in volo Scherzando abbiamo più soli di prima O c'è un agapo Carino C'è un negozio dietro di me Eh Ti sposto qui Non lo sappiamo Lancia due Ma dopo fai in fretta Come sei tu? Ci sono cecchieando dopo Invece Invece Sì A me no Anche a te Mia Lancia qua Mi guarda il tizio Alleato in arrivo Forse devo avvertiti Via Ehm Un po' bene Dov'è un tipo? Mi sa che si è fatta anche un altro team Vediamo tipo top Dimmi dove vuoi Dimmi tu i segreti Ho top Dov'è che è top? Thing Ok No E prendiamo pure la corona Non so Non ho capito questi tizi che sono Ma Oh giallo Grazie Io però non ho coraggio Pieno una Un alleato è stato segnalato come bersaglio ricercato Io holdo il ascensore Proteggilo a ogni costo Dov'è che gli ultimi miravano? Ehm... un attimo che sto correndo Questo elicottero vuole il tuo ano, Apo C'è troppo Ihhh... C'è troppato Ho fatto eh? Terra Usa una Claymore Ammazzato Ehm... C'è un'altra coda C'è una scuola Questo stronzo? Ehm... Non so È seduto a terra Tipo... Medi alla strada Cioè non ho che l'ha ammazzato in buro Capito? È qua Siate salvi Avete seminato gli inseguitori non è più in basso ha aprito lo scudo no no non sticavo tanto mo cerchino qualcosa e muovi questo qua è qua l'altra corona sta correndo mi ha sfiorato il culo la corona è qua giù è entrata qua holdo il negozio holdo il ascensore a poi che mi spara ti ho pezzi non c'è ancora non posso restarti a po sta salendo le scale sta salendo le scale è qua movimento accopro se vuoi coprire l'ascensore io accopro le scale che sei nudo che succede faccio d'equipaggiamento alleato in arrivo ha fatto tutto uno scudo qui ci sono due corone c'è sopra di noi si cazzo in arrivo zona sicura riposizionata 49 secondi che situazione del cazzo due stronzi ce ne sono uno ci sono tre stronzi due stronzi la corona è morta l'ha presa dopo di noi quindi è per forza morto questo secondo me ah no sono ancora qua avete difeso con successo il vostro compagno di squadra si cazzo di 6 non lo so andiamo giù con la sensore ce ne andiamo? meno 18 tre stronzi oh dio sotto guarda guarda venga venga aspetta andiamo top andiamo top un attimo top non c'è nessuno ok andiamo via andiamo via di un'altra andiamo via c'è un bersaglio paura andiamo a loadout come stai lo faccio terra andiamo così verso il loadout prima negozio dove comprare 6 caspia di piastre c'è un venditore per fare scuola tutti nella zona sicura vado a tirare la maschera lasciami i soldi per la terrestre e ci sono soldi grazie e a fermiare la bout oh no niente oh no mi ho dimenticato dove cazzo avevo messo blu ok tutto molto bello fammi entrare qua ah bello nascosto devo andare qua mi manca la munizione di me che movimento di no quindi vorrei lootare andiamo nella polizia se vuoi qui a fianco vuoi prendere la maggior gas si si che è? mi ha saluto la claymore nella scala l'ha messo a terra peccato ti sei guardo? che non so come girare qua mi segui Andy what the shit clay la polizia è dietro se vuoi prendere munizioni ah vabbè quelle sono talmente poche ehm due caricatori da oh sei convinto ti vedo uno che tanto io ne ho due no ovviamente me ne riempie due dico di di cosi altrimenti mi sono ma te non ti pari stavo che tranquillare madonna ne ho ne ho dei cecchini non mi servono quindi stavo durando per forza unicchio il gas è il gas lo so ma vedi ho fatto un uccisione allora il discorso è che secondo me dobbiamo andare nei bungalow mi sposto va bene va bene il discorso è che non so come arrivarci dovremmo dare tutto dritto una crossata magica in mezzo alle merde eh va bene andiamo crossata magica in mezzo alle merde c'è un camion vicino al negozio ma dove stai andando verso la mi stanno checkinando pensa sotto da sinistra non mi andò ma poi stai andando un uomo nemico in volo posizione cosa faccio l'ho ma questo lì sono nascosti nel canale con gli alberi fa l'alberi e c'è scudi mi arrivo gi cazzo merda da te è pieno di roba farmland esplosioni commenti io ho appena scoperto di avere busto non c'ho busto basso a 1 loot bungalow yeah ce l'abbiamo fatta se ne andiamo in questa montagnetta spruzzo mi muovo di qua oh vai in mezzo c'è spuglietti ok sono un uomo che c'è più 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 ma io sono solo da quei cichini di merda sono contento guarda e andro anche se volevo fare un contratto ma non c'è nessuno qui c'è la balestra si forse devo prendermi il cecchino l'altro cecchino a pensarci però sento dove dirigente questo veicolo e mi sono roti i coglioni c'è una cassa qua sopra? no allora io voglio il mio cespuglio oh yes ok siamo dentro attenzione a eventuali movimenti questo è il mio posto della safe il problema è che siamo oltre mi tolgo allora eh ma io non ho tutto il canto cespuglio ma questo cespuglio non è molto consolo eh io devo mangiare un muro coso allora la mia domanda è aspettiamo che palle mi ma mette tipo il contro tipo guarda quanti ce ne sono qua di contratto a downtown 20 cioè qua no qua no oh questa qui non ha neanche il nome eh non ha merita il contratto oh guarda query quanti sono i contratti va bene va bene una ventina aspettiamo con ansia cecchinate 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 movimento colpi lì eh uh sono spaventato oh merda questo cespuglio fa schifo uffa non mi piace da dove cazzo stavano qui dai vieni il mio vieni il mio dai infatti lo metto qua vieni il mio ah questo è un bel cespuglio fa plop 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 sono impossibile vero che cespuglio sei? eeeh minchia non hai sangue freddo dopo? no bene benissimo allora non serve una ciole andare nei cespugli cioè ma cheee ma cheee ma non ce l'ha nessuno in termine allora il mio discorso è eeeh ok ci guardiamo le palle degli occhi e ciao che palle eh si si potrebbero cambiare i contratti nel frattempo dopo la prossima safe speriamo di bene io mangio serve a qualcuno? serve a qualcuno? serve a qualcuno? gas in arrivo nuova zona sicura contrassegnata da questa parte ignorate quello che ignorate quello che qua la dritta mi sposto qua ci sono dei cespugli che non ti dico le lezozeri che ci possono fare però aspettiamo un attimo sono cambattuto sono mo eh ma siamo già a bordo safe di mandare tutto un open dopo eh ed è molto più concentrato il focus non lo so vai diseguo diseguo se vuoi andare diseguo ah ma pomme di merda mi vedo che ci sono due due elicotteri c'è un elicottero libero mmm non mi penso di aver preso la balestra si dobbiamo andare vai per forza c'hai la maschera tu? si si vado a comprare dispo che c'è un suo punto 3 e lo zainetto tu? si si compro anche per te? no no io sono a posto si assi in avvicinamento aiopo? andiamo fino mi sto cagando addosso qui la sopra la domanda siamo tutti nella zona sicura non c'è bisogno annulla ultima comunicazione questa gratta c'è sempre stata? ehm si io non me la ricordo ok l'ho e io non mi sto cagando ok 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 Cristo stronzo Merda Spero che non ci sia nessuno là sopra Perché io devo andare in un cespuglio magico Che conosco io Eccolo Non lì si vede qua? E' il fantasma sti peni Trovo il tuo cespuglio Questo non si vede? Quello se vado in quella stradina Però credo di no Tritamenti a ovest Ritorno nella sfera Eia Oddio Mi muovo di qua Dopo non devi sparare col cecco Ci sentono e non gli spari Tu dovresti essere nel sentiero del cazzo Quindi tu vedrai stronzi Te lo dico Eh Eh però c'è Questi sono da tritare Arriva un lancio d'equipaggiamento No sai fa col Che cazzo San lusso No adesso qui Sto fai dando Sto non so eh O era un legisimo imagination Papo tu devi controllare il sentierino Perché il sentiero per salire è qua Quindi non so che dirti Sì però è difficile Ma non è partita per gas Ma questa non è l'ultima safe Forse sì No 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 C'è anche giunto il pink blue eh Ok Stiamo dentro Attenzione a eventuali momenti Mi muovo Come non detto Quando la mia ombra è in ritardo un sacco Mi spaventa come sembra un'altra persona Dieci rimasti Ci sei quasi Oh Ok Contriera non vedo ancora nessuno Sono sicuro che ci vedete qua dietro Mi muovo di qua Mi rientro nella sfera Da questa parte Eccolo Aspetta no Spara questo Quello è morto Ok A terra C'è un suo fidanzato dietro Quelli di cosa Eh sì Si sprando Mi muovo Te lo confermo Tu pensa all'altro Te lo confermo io Tu pensa all'altro tizio Eh l'altro tizio Non lo vedo Sta correndo Movimento Eccolo Eccolo Zona marcata Ignora tutti i movimenti Bella Ci andiamo a mandare Se facciamo un troiaio Siamo morti Da un stando adaglio Troppo Tutti nella zona sicura Presto Vai Ho preso Ho preso una termina Andiamo Ma poi sono Non lo grano male Eccolo Io sono top Uncola Io qui che riesce a rimanere il pop Qui c'è un bersaglio In movimento E due Di notte di prima Sto salendo Eccolo Segnalo un bersaglio Che sto coprendo dietro Qui c'è un bersaglio Alla nuova zona sicura Ne rimangono cinque Concentrati Uno di quei tipi di prima E' morto Ce n'è solo uno Quello senza sangue freddo Che lo vedo Vai Vai via Se vuoi Eh Non ciò Un posto 2-1-1 Cominione a te Grazie a te Già fai salire ground Sì Eh no Sì Non è in ground All da lì Gassi in avvicinamento Tutti nella zona sicura Presto Non ci credo No No Sì Dov'è lo stronzo Due team Uno uno No Siamo due contro uno Ah due contro uno Ok L'ha restato mi sa L'ha restato qua sopra Nuova zona sicura Intilinguata Dov'è cazzo L'ha restato Andre Non vedo il vostro onzo Non ho munizioni Stop Stop Ah sta parlando C'era il ping di sotto, guardavo il terreno, non vedevo niente, ho detto, ma son tardo Ho appena preso le make-up a 9 e vinta Che palle Che ero tua di coglione O stavo venendo i video perché mi ha messo la smaschera a casa, cioè io ci posso credere No, la metta con il gas Ma voi Che? Sì, ma mi fa dopo un bel fuoco, capito? Ok Che fallo, stai cazzo, massimo Ho fatto delle uccisioni e ti sei perso? Perché mi hanno dato solo due uccisioni? Non l'ho capito, dovrei averne tre Cioè, il gioco è giusto, dovrei averne tre Ah, a meno che l'ultimo non l'hai sparato tu Te l'ho dato a te? Ah, tre me ne ha dato, ok, allora sono d'accordo Porca puttana Oh, Ruttino Ah, c'è Oh Min